C'è un comportamento tossico che devi assolutamente eliminare, un comportamento tossico che ti impedisce di raggiungere i tuoi obiettivi, di raggiungere i risultati che ti meriti, di vivere la vita che vorresti. Ti porta ad accontentarti di un lavoro insoddisfacente, di un partner o una partner che in realtà non sai quanto facciano al caso tuo. C'è un comportamento tossico che ti impedisce di essere soddisfatto, felice, cioè ti impedisce di realizzarti in questa vita. In questo video voglio parlarti di questi atteggiamenti mentali che sono molto importanti, perché quel comportamento è un atteggiamento mentale che tu hai qui e che tu hai imparato. Devi immaginare, non so se ti è mai capitato, di camminare lungo una diga, una diga di un lago, una diga che contiene un lago, una grande massa d'acqua che fa una forte pressione sulla diga. Se il livello dell'acqua sale troppo, ad un certo punto è necessario che per ristabilire la pressione ad un livello adeguato, sopportabile per la diga, un po' di questa acqua venga fatta defluire. E quindi quello che viene fatto è di aprire una chiusa della diga in modo che l'acqua defluisca fuori, si abbassi il livello e tutto ritorni a un regime sopportabile. La pressione è comunque tanta, è comunque forte, ma così è possibile sopportarla. La diga regge, la diga tiene. Tu sei in realtà la pressione dell'acqua e le tue giustificazioni, le tue giustificazioni sono quella chiusa che come una valvola di sfogo lascia defluire quell'acqua. E la tua vita, la tua vita è la diga, una vita che tu stai passando cercando di arginare un'energia che senti dentro di te ma che ti sei abituato a ritenere in qualche modo sbagliato o addirittura non la conosci neppure. Immagina di essere cresciuto in un ambiente può darsi che non sia successo a te in cui le persone ti hanno insegnato che non puoi ambire a più di tanto, non puoi arrivare ad un certo livello. chi ti credi di essere, ok? Ti hanno insegnato che certe cose sono difficili e tu hai imparato che sono al di fuori, al di là della tua portata. Quindi hai imparato ad accontentarti. Ma non basta perché nel corso della vita tu hai vissuto una serie di esperienze in cui questo accontentarti ti portava fastidio. Magari tua moglie era una persona con cui non ti trovavi affatto bene, non era soddisfacente il rapporto con lei. Oppure un lavoro che in realtà non ti permetteva di emergere o di raggiungere quel livello, quel grado di dipendenza, di soddisfazione che volevi. magari hai accettato un posto sicuro perché ti hanno insegnato a stare in un posto sicuro per tutta la vita e quel posto sicuro era la famiglia, il lavoro, quando tu in realtà volevi fare tutt'altro. E quindi la tua vita come una diga arginava questa energia. ma ogni tanto ti è successo che quell'energia era troppo forte. Lo hai avvertito. E in quei momenti che hai fatto hai aperto una chiusa della diga. Hai lasciato defluire l'acqua. Un po', non tanto. Quella valvola di sfogo che cos'è? Quello che ti racconti. le tue convinzioni limitanti sulla tua vita. Che è giusto fare in un certo modo? È giusto vivere in una certa maniera? Che è scorretto, è sbagliato comportarsi magari come tu desideri? Che i tuoi desideri sono troppo al di là della tua portata che non te li puoi permettere? Che non sei abbastanza capace? Non sei abbastanza bello? Non sei abbastanza bella? Non sei abbastanza intelligente? Poi ti capita di avere a che fare con persone che hanno i tuoi stessi limiti. Perché ognuno di noi ha dei limiti. E hai visto che quelle persone sono andate avanti. E tu sei lì che ti mangi le mani. Perché? Perché loro ce l'hanno fatta. E allora? Allora devi riaprire la chiusa. Far defluire altra acqua. Perché la pressione è forte. Perché il mondo ti sta dicendo guarda che in realtà ci sono persone come te che forse valgono anche meno di te che lo stanno facendo. E quindi allora tu devi dire vabbè, vabbè, è fortuna, è il caso. Ok? In qualche modo devi svilire quello che fanno gli altri o considerarli fortunati o dire vabbè, non è il mio non è il mio mondo non è il mio modo di fare. Ti racconti delle storie. Ti racconti una storia che giustifica il tuo comportamento. Che giustifica il fatto che tu stai passando una vita a bloccare questa diga una vita a bloccare quel flusso o quell'energia dell'acqua vivendo come una diga per impedire a quell'energia di andare oltre. Perché? Perché se disgraziatamente viene giù la diga tutto, tutto si inonda. Perché ti hanno detto che è pericoloso. Hai imparato nella tua vita che è pericoloso. Se fai caso a queste parole che ti sono state raccontate molto probabilmente ti renderai conto che ci sono proprio delle frasi delle frasi che ti tornano in mente e queste frasi se tu ci pensi bene ogni tanto hanno una voce che non è sempre la tua è quella di qualcun altro anzi se ci pensi bene queste frasi alle volte hanno anche un volto hanno persino un contesto cioè magari ti è stato ripetuto spesso che non sei in grado non sei capace che sei stupido che sei un cretino dove vuoi andare ti è stato detto questo tante volte magari sei andato a scuola e ti avevano insegnato questo e quindi tu hai messo il tuo primo piede in quella scuola già sapendo che avresti fallito e tu che hai fatto? Ti sei adattato adeguato a quella storia che ti hanno raccontato perché? Perché tu avevi bisogno di essere accolto accettato nel tuo ambiente ma a volte succede anche in un'altra maniera a volte succede anche che tu vivi in una situazione in cui sono molto bravi magari molto più bravi di te e tu hai delle difficoltà e non sono preparati ad avere a che fare con qualcuno che ha quelle difficoltà per cui anche in quel caso magari non te lo dicono ma l'atteggiamento parla dice molto è quello che dice che tu sei dal meno dal meno di loro dal meno di tuo fratello dal meno di tua sorella dal meno di tuo padre dal meno di tua madre dal meno di tuo zio dal meno dei tuoi cugini e impari impari ad accontentarti e questo aumenta la pressione e aumentando la pressione tu senti il bisogno il bisogno di fare qualcosa per abbassare quella pressione perché non deve venire giù la diga perché se viene giù è pericoloso chissà cosa capita e allora ti racconti una storia una storia nella quale è giusto che tu sia lì dove sei che tu faccia quello che fai che tu ottenga risultati che ottieni punto ed è una storia a cui credi perché è una storia che ti sei raccontato per tanto tempo e anche se magari un tempo te l'hanno raccontata altri o ti hanno fatto intendere altri che c'era quella storia poi alla fine tu te la sei raccontata per tanti anni puoi avere anche 22 anni te la sei già raccontata per degli anni e in questo modo hai finito per pensare che fosse la tua storia non quella che avevi imparato e quindi ci hai creduto e quindi hai smesso di provarci è questo quello che la maggior parte delle persone fanno per accettare una vita insoddisfacente nonostante non ci sia nessun motivo nessuno senza eccezioni per accettare una vita insoddisfacente ma hai imparato a provare una sensazione di disagio nel provare nel tentare perché sbagliare significa confermare la tua inettitudine perché ti hanno insegnato questo ti hanno hanno preso i tuoi errori e li hanno usati per dimostrarti che eri inetto e poi alla fine hai imparato a farlo da solo e quindi se sbaglio sono inetto quando in realtà se sbaglio se sbaglio sono una persona che ci prova perché sbaglia chi ci prova ma tu hai imparato a non provarci più questo è uno degli atteggiamenti più tremendi che una persona possa mettere in campo dentro se stessa per limitare la propria vita e condurre un'esistenza insoddisfacente scrivi nei commenti se lo stai facendo oppure come hai superato questo così che molte persone possano vedere che c'è anche chi ce l'ha fatta